Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action, da e con gli studenti, per la città e il territorio. Un Ateneo può compiere diverse azioni o progetti che siano volti a migliorare il rapporto che hanno le persone all'interno del campus, proprio con sia l'ambiente circostante che anche con lo spazio in cui abitano. Prendiamo l'esempio dell'Università di Bologna, sta attuando una serie di politiche per esempio di efficientamento energetico, di mappatura degli edifici di sua proprietà, al fine quindi di andare a costituire anche in questo caso un punto di riferimento anche per tutta la comunità, al fine di sviluppare delle politiche verdi anche all'interno del manufatto architettonico ed edilizio che è collocato all'interno del territorio regionale. Grazie. Grazie. Grazie.